Vabbè, mi miso, c'è qualcosa, quello che ti fate, ma si può fare pure più grande, eh? Allora, grande buona, c'è yogurt, c'è yogurt, c'è yogurt, c'è yogurt, c'è uno qua, no? E' un po' di, c'è il po' di, fa un po' di, e, e, con un po' di, e, 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 l'acqua, e, 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 un po' di sottotitoli eh, perchè ci sono fasciate nel pasto eh, questo toccato è poca eh, perchè non passa via la ruota vado Sostate l'intergo l'intergo incas call il portuto l'intergo further il porto l'intergo